Trentina di aziende, adesso siamo arrestati che porta a termine il discorso in 4-5, più che altro quelli che sono riusciti a portare il prodotto finale, perché il problema di questi animali è la lavorazione, come diceva prima Antonio, cerchiamo di lavorare al massimo del naturale, senza adoperare i tratti, i tritti e i conservanti, di conseguenza però non è facile, non è facile e si fa delle quantità molto piccole. Sì, scusami Aldo, io volevo precisare una cosa, come tu mi dicesti tempo fa, ecco che lavorare questi maiali è tutta una filiera totalmente diversa da come siamo abituati a concepire la lavorazione dei maiali tradizionali e Aldo mi faceva appunto presente che proprio la lavorazione è quella che fa la differenza su questi tipi di maiali, se non vogliamo lavorare con conservanti, nitrati, nitriti e cose del genere, dobbiamo lavorarlo con delle tecniche adatte per questo tipo di carne.